Due tentativi di furto in altrettanti negozi di Montevarchi, nel giro di pochi giorni, i carabinieri identificano e denunciano tre persone in tutto. Prosegue dunque senza sosta il controllo del territorio e con esso i servizi mirati alla prevenzione dalla repressione dei reati predatori da parte dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che negli ultimi giorni sono riusciti, come detto, a mettere a segno due colpi importanti alla cosiddetta microcriminalità. In entrambi i casi, determinante è stata la tempestività dell'intervento di due gazzelle dei carabinieri impegnate nei consueti servizi perlustrativi del territorio valdarnese, finalizzati proprio alla prevenzione e alla repressione di questo tipo di reati. Nel primo è stato denunciato un uomo di poco più di 30 anni, nato in Macedonia, ma cittadino italiano, colto sul fatto nella tentativo di rubare alcuni utensili e vario materiale elettrico da un negozio della Centro Commerciale Coppo di Montevarchi. Allertati dalla servizio di vigilanza dell'esercizio commerciale, i carabinieri di Montevarchi sono immediatamente giunti sul posto identificando e bloccando l'autore del tentato furto. L'esame poi delle telecamere di videosorveglianza ha fugato ogni dubbio, consentendo ai carabinieri di attribuire con certezza la responsabilità al malvivente. I beni sottratti del valore di poco meno di un centinaio di euro sono stati recuperati ed immediatamente restituiti alla commerciante. Il pregiudicato, dato il valore non eccessivo della rifurtiva, è stato denunciato in stato di libertà alla autorità giudiziaria di Arezzo per tentato furto aggravato. Il secondo episodio è avvenuto sempre a Montevarchi e tutto è partito da una segnalazione alla centrale operativa della compagnia di San Giovanni Valdarno, che ha ricevuto da parte del personale dipendente la notizia di due persone sospette all'interno del negozio Obi di Montevarchi. I due uomini si stavano impossessando illegalmente di un monopattino elettrico esposto nell'androne d'ingresso del valore di alcune centinaia di euro. Uno dei due uomini, un pregiudicato già conosciuto ai carabinieri, è stato bloccato proprio mentre stava per andarsene con il monopattino sotto braccio. I testimoni e le immagini del sistema di videosorveglianza però hanno permesso ai militi intervenuti di appurare che l'uomo aveva un complice con il compito di tenere sotto controllo i movimenti ed il comportamento del personale di sorveglianza. Non appena identificato e bloccato anche il secondo uomo, i carabinieri hanno condotto entrambi alla caserma della compagnia di San Giovanni Valdarno. I due sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Arezzo per tentato furto aggravato.